Ciao ragazze, buongiorno. Oggi parliamo di cellulite, un argomento al quale sicuramente siete molto sensibili e proprio per questo motivo ho deciso di affrontarlo e darvi delle piccole indicazioni che possano sicuramente aiutarvi a migliorarla. Mi chiamo Alessandro Gatti e da oltre 20 anni lavoro al fianco delle persone, ragazzi e ragazze, che hanno come obiettivo quello di migliorare il proprio aspetto e di conseguenza, proprio anche per quanto riguarda le ragazze, cerco appunto di supportarle e di dargli delle strategie per migliorare quelli che possano essere appunto i propri punti carenti, i propri punti deboli. In questo caso parliamo di drenaggio linfatico, quindi ok, problematica delle cellulite, oppure il rimodellamento dei glutei, il lavoro di ricomposizione corporea, quindi appunto si parla di un miglioramento dal punto di vista estetico. Purtroppo la cellulite, o comunque la ritenzione idrica, è una caratteristica intrinseca nella fisiologia della donna, quindi ci dobbiamo combattere, dobbiamo trovare dei modi comunque per migliorarla. Magari in alcuni casi sarà difficile eliminarla del tutto, però comunque migliorare è sicuramente possibile se si attuano delle strategie ben precise e proprio in questo video le andremo a trattare. I passi da seguire sono fondamentalmente tre e i primi due diciamo che sono in parte collegati fra loro. Allora, il primo passo da fare è sicuramente in merito all'allenamento, ovvero bisogna fare degli allenamenti con dei time under tension, ovvero dei tempi sotto tensione lunghi. Per quale motivo? Perché il tempo sotto tensione lungo va a migliorare il microcircolo e di conseguenza a migliorare l'ossigenazione dei tessuti. Un tessuto con una migliore ossigenazione lavorerà meglio, avrà una minor propensione al trattenimento dei liquidi, quindi un tessuto più ossigenato avrà degli scambi cellulari migliori e di conseguenza tratterrà meno liquidi. Il time under tension lungo in che modo si ottiene? Beh, può essere fatto semplicemente allungando il numero di ripetizioni, quindi tenendo serie di lavoro più lunghe, oppure magari facendo il classico lavoro a circuito. D'accordo? Quindi sicuramente eliminare il lavoro prettamente di potenza, ma comunque tenere appunto un lavoro con dei carichi un pochettino più moderati e più prolungati nel tempo. Il secondo passo è strettamente collegato al primo. Per quale motivo? Perché anche nel secondo passo si va a parlare di lavoro, ovvero di come gestire il lavoro. In questo caso non si parla della tipologia di lavoro, ma di come viene periodizzato questo lavoro. Questo è un aspetto fondamentale e che in tanti trascurano. Per quale motivo? Perché quando ci alleniamo troppo, quando ci alleniamo troppo spesso, mettiamo in condizione il nostro corpo, in una condizione di stress del nostro corpo, lo stato infiammatorio aumenta e naturalmente il nostro corpo si difende oppure risponde a questa situazione trattenendo acqua. D'accordo? Infatti se voi ci fate caso, in seguito a un allenamento, comunque in una fase in cui vi state allenando in maniera massiva, il vostro peso corporeo tende a salire e questo è il motivo, il motivo è perché voi state trattenendo più acqua. Se invece vi trovate in una situazione di riposo, comunque durante la fase di riposo, il corpo naturalmente si rilassa, lo stato infiammatorio passa e i liquidi defluiscono. Di conseguenza, saper periodizzare bene, distribuire bene, nella maniera giusta, appropriata, gli allenamenti nell'arco della settimana con il giusto volume di lavoro e i giusti esercizi, vi metteranno nella miglior condizione possibile per espellere bene tutti i liquidi in eccesso. Nel terzo passo per combattere la cellulite invece cos'è che facciamo? Andiamo a chiamare in causa l'alimentazione, perché chiaramente anche l'alimentazione è strettamente responsabile della ritenzione idrica e quindi della formazione o meno della cellulite sul vostro corpo. Come deve essere la vostra alimentazione? In primis dovete stare alla larga assolutamente da tutti i cibi spazzatura. Dovete cercare di impostare un piano alimentare fatto da alimenti freschi, naturali e di alta qualità. Eliminare i grassi saturi o comunque limitarli molto, stare alla larga dai fritti, cercare sicuramente di limitare l'assunzione dell'alcol e stare anche attenti ai latticini perché anche quelli comunque su tanti soggetti possano dare ritenzione idrica. Quindi come impostate alla vostra alimentazione e a tutti gli effetti quello che mangiate da mattina a sera è sicuramente molto importante in termini dei risultati e non potete assolutamente trascurarlo se il vostro obiettivo appunto è quello di migliorare il vostro aspetto, di migliorare la condizione della vostra cellulite, della vostra ritenzione idrica. Questi tre passi magari non risolveranno al 100% le vostre problematiche, però se applicati con costanza sicuramente vi metteranno nella migliore condizione per migliorare. Se comunque volete approfondire l'argomento mi potete scrivere in privato, contattare via mail, tramite i classici canali social e io sarò ben disponibile di confrontarmi con voi. A presto!